Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Binocoli Feber Automobile BEAT. Una primicia para Feber. In este cochecito urbano tanto los niños como las niñas se lo van a pasar viva. El acelerador eléctrico se controlla con el PY el freno se activa de forma automatica cuando se suelta el acelerados. Incluye una batería de 6 volt. A partir de 12 meses características generales, dimensiones, altura. 43 cm anco. 47, 5 cm profundidad. 78 cm materia, plastico pilas. 6 cantidad de pilas. Una pila incluida advertencias generales, edad minima. 1 año edad maxima. 4 años aptitudes o características requeridas. Peso de 25 kg maximo. Questo video partecipa al programma Affiliazione Amazon Europa, dalla pubblicità e link all'Amazon IT. Per maggiori dettagli e ottenere un grande su Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie a tutti